il mio profilo facebook tutte le anime che sono affascinate attratte dal mondo benedetto della divina volontà il mio caro saluto a tutti e a ciascuno nel fiat divino ben ritrovati benvenuti o bentornati come preferite sulle frequenze di questo ciclo di catechesi dedicato intitolato ad amo e la vita nella divina volontà dedicata ad approfondire quelle sezioni degli scritti della serva di dio luisa piccarreta che approfondiscono appunto lo stato la condizione che ad amo viveva prima nel peccato originale e che sono oggetto anche di promessa raggiungibile e conseguibile da chi attraverso un buon cammino costante perseverante riesce riesce ad entrare in questo in questo questo regno ecco mi sembra di sentire un po l'eco delle parole di gesù la legge profeti fino a giovanni poi si annuncia il regno di dio e tutti si sforzano per entrarci ecco quando gesù parlava del regno di dio noi sappiamo che il regno di dio con la r maiuscola veniat regnuntum proprio il regno perfetto di dio cioè lo stato in cui dio regna perfettamente senza possibilità alcuna di intermissione né di volontaria sottrazione della creatura da parte del suo potere appunto il regno della divina volontà che deve essere innanzitutto come sappiamo conosciuto deve essere desiderato e poi bisogna cominciare a rimboccarsi un pochino le maniche per poterci entrare in questo ciclo di catechesi allo scopo appunto di attraverso anche la spiegazione di come viveva damo di farci comprendere un pochino meglio vedremo per esempio questa sera come dire un paragone gesù stesso insomma salire in cante tra e spiegare l'abisso di differenza che esiste tra chi vive nella divina volontà e chi si sottomette o si sottopone ad essa il che non dimentichiamolo mai è tanta roba però rispetto al top è ancora uno stadio come dire non perfetto intermedio che altro come vedremo intermittente quindi che non che non che non che non consente di poter vivere in maniera stabile perpetua sapete che una caratteristica proprio fondamentale purtroppo una misera degli esseri umani è la volubilità un giorno una cosa un giorno un'altra a seconda di come ti gira l'umore a seconda di qualche cosa che ti sconvolge che ti mette in crisi che ti fa soffrire che ti e puffete se ne vanno subito per aria propositi e tante buone intenzioni questo non è assolutamente nulla a che vedere con il regno della divina volontà allora oggi vedremo con l'aiuto del signore di nuovo due scritti uno del volume diciottesimo che poi ecco saluteremo e uno del volume diciannovesimo conseguiamo un pochino l'ordine cronologico degli scritti perché noi sappiamo anche che gli scritti è importantissimo seguire l'ordine cronologico adesso mi perdonerete se ogni tanto divago un po' o riprendo alcune cose essenziali cioè Gesù ha proceduto pedagogicamente con Luisa cioè gli ha fatto fare un percorso spirituale mistico anche anche se questo è accidentale e intellettivo intellettuale e soprattutto poi pratico e esperienziale nel senso che piano piano ce l'ha introdotta a vivere in questo mondo no con una gradualità perché anche in questa itinerario come in tutta la vita cristiana pensate per esempio al principio fondamentale al fondamento che c'era anticamente nella chiesa sappiamo alcuni movimenti ecclesiali hanno cercato di riprenderlo il catecumenato battesimale per esempio l'iniziazione cristiana adesso anche la chiesa nei nuovi libri liturgici nel rica ha come dire riscoperto questa pedagogia a tratti anche mistagogia cioè quindi il fatto che non si diventa santi di botto tu passi da grande peccatore a eroiche virtù dall'oggi al domani c'è la grande conversione da cui comincia poi un cammino un cammino che è fatto necessariamente per tappe graduali che non sono d'accordo questo vale in tutti gli itinerari anche chi vuole percorrere il cammino della preghiera chi vuole raggiungere la relazione con dio chi vuole diventare prete chi vuole sposarsi che dovrebbe aver fatto un santo fidanzamento che io dico sempre a me mi hanno fatto fa sette anni di croce e io la messa non mi ha potuto celebrare fino all'otto maggio del 2004 questi oggi fanno niente celebrano l'equivalente della messa perché l'equivalente della messa sarebbe la prima notte di nozza dal giorno dopo sono conosciuti che preparazione hanno fatto dopo dopo uno si stupisce che i matrimoni vanno a zampa all'aria chiuse tutte queste parentesi allora oggi vedremo volume 18 11 febbraio 1926 e se dio vuole che poi non parto per la tangente questa settimana su questo diciannovesimo volume 31 maggio 1926 cominciamo dal primo che è relativamente breve ma assai intenso chiaramente non è tutto il paragrafo cominciamo a leggere dalla parte della sezione che riguarda il nostro tema sta parlando gesù quindi puntini puntini con giusta ragione temi se un solo istante uscissi dalla volontà suprema o come scenderesti nel basso ti ridurresti quasi dallo stato di adam innocente allo stato di adam colpevole e siccome adam era stato creato come capo di tutte le generazioni la sua volontà sottratta dal suo creatore formò il tarlo nella radice dell'albero di tutte le generazioni perciò tutti sentono le rovine che formò il tarlo della volontà umana fin dal principio della creazione dell'uomo attenzione ogni atto di volontà umana non connessa con quella di dio forma un abisso di distanza tra il creatore e la creatura quindi distanza di santità distanza di bellezza distanza di nobiltà distanza di luce distanza di scienza onde adam col sottrarsi dalla divina volontà non fece altro che mettersi a distanza dal suo creatore questa distanza lo debilitò lo impoverì lo squilibro a tutto e portò lo squilibrio a tutte le generazioni perché quando il male è nella radice tutto l'albero è costruito a sentire gli effetti maligni gli umori cattivi che ci sono nella radice onde figlia mia avendo chiamato te come la prima e capo della missione della mia volontà questa mia volontà deve gettare in te l'equilibrio tra te e il creatore e quindi togliere la distanza che c'è tra la volontà umana e la divina per poter formare in te la radice dell'albero senza umori cattivi facendo scorrere solo l'umore vitale della mia volontà affinché l'albero non resti pregiudicato nella sua vegetazione, nello sviluppo e nella preziosità dei suoi frutti ora se tu volessi fare un atto di tua volontà non connessa con la mia verresti a formare il tarlo alla missione che ti ho affidato e come un secondo Adamo mi rovineresti la radice dell'albero della mia volontà che voglio formare in te e pregiudicheresti tutti coloro che vorranno innestarsi a quest'albero perché non troverebbero tutta la pienezza della mia volontà che in te ha avuto il principio allora questo scritto è apparentemente non troppo non so chi l'ha ascoltato in diretta che risonanze ha dice beh che è sta roba allora facciamoci subito attenti qui ci sono tre parole chiave fondamentalissime la prima è equilibrio con il suo contrario equilibrio e squilibrio la seconda parola chiave è distanza non so quante volte se avete fatto caso io poi l'ho calcata apposta distanza tra la creatura e la creatura distanza di santità questa distanza lo debilitò togliere la distanza che c'è tra la volontà umana e la volontà divina distanza terza parola chiave che è la prima poi che è comparsa in ordine cronologico e l'ultima connessione noi dovremmo essere qui dovremmo capire meglio noi di Luisa con il dovuto rispetto perché noi oggi sappiamo benissimo che vuol dire essere connessi e anche proprio il concetto nostro postmoderno ultracontemporaneo di connessione aiuta a capire bene che tipo di situazione deve innestarsi tra noi la divina volontà facilissimo provate adesso che sta ascoltando la diretta stacchi il modem oppure tolga il wifi o il 4g allo smartphone o al tablet che ha e vedrà che qui non vede più niente noi non ci pensiamo d'accordo ogni tanto ci e che succede quando la connessione è debole d'accordo ogni tanto mi arrivano i messaggini nelle dirette facebook non si sente non si vede io chiaramente non posso rispondere poi se c'è qualche amministratore che sta dentro il mio profilo ogni tanto gli dice qualcosa allora e attenzione la nostra connessione facciamo un po' di lezioni di web ha una doppia come dire una doppia sorgente perché si vede bene se io che sto trasmettendo in streaming ho una velocità di upload elevata ma perché si veda bene c'è anche bisogno che chi guarda abbia una velocità di download adeguata se una di queste due cose non funziona ora volendo fare questa metafora qual è la velocità di download cioè quella con cui le cose scendono dal cielo a noi altro che google altro che i 100 giga che avrebbe capolato google in download cioè qui capito e siamo noi che siamo scarsini con l'upload sapete che l'upload poi proprio fisiologicamente ordinariamente nelle connessioni di rete è sempre molto più basso l'upload del download chissà se anche questo non potrebbe ecco rimanerci nella nostra memoria come una metafora il problema sta quasi sempre nell'upload e in effetti quando si vede male purtroppo io non so più che cosa inventarmi perché qui in Italia stiamo nel biafra non siamo come negli Stati Uniti per cui per quanto tu te ne inventi da tutti i colori cambi i gestori spesso e volentieri una cosa andava bene fino a ieri e da oggi cominciando a male sempre per il problema dell'upload d'accordo perché il nostro problema è elevarci su d'accordo se la velocità di upload è adeguata la connessione è stabile e fiori escono tutte le grazie possibili e immaginabili questo è un a mio avviso non so se Gesù ha usato questo termine chi lo sa può essere pure pensando che un giorno sicuramente lo sapeva Gesù che c'è qualcuno che parlava della linea volontà dal computer su facebook questo certamente Gesù lo sapeva poi che sia contento o non sia contento questo non aspetta a me giudicarlo io voglio sperare che almeno non non sia offeso quindi almeno non si dicano strafalcioni che sarebbe già un grande obiettivo d'accordo però ecco questa immagine specialmente per chi pratico un pochino e anche per la modalità con cui anche chi dovesse poi eseguire insomma la catechesi differita su youtube il concetto è lo stesso cioè per caricare un video ci vuole una buona velocità di upload se no ci mette una settimana a caricarsi e per poterlo riprodurre ci vuole una buona un buon livello di download altrimenti si ferma a continuazione d'accordo oppure sgrana brutto quindi già qui si capisce qual è poi è bellissimo perché se no si fa studiare non sono molto molto pratico però sentivo parlare ai miei amici quando vieni a montare il modem noi sappiamo per esempio che la connessione non si realizza se non c'è un allineamento bellissimo devono allinearsi le cose di fantastico capite cioè quindi e poi il modem ordinariamente rimane acceso 24 ore al giorno almeno a casa mia è acceso 24 ore al giorno il modem ok è stato 24 ore al giorno quindi questa immagine ci aiuta a già capire una cosa fondamentale allora bisogna giungere ad un grado come dire abituale ecco di movenza nella divina volontà tale da non causare mai crolli di banda d'accordo ecco perché ogni volta che sia una cosa di questo genere usciamo e so guai so problemi la nostra volontà ricomincia ad agire come scheggia impazzita è come se tu spegnessi il modem cioè se io vado a caricare una pagina web col modem spento mi dice linea assente non sai non sai non sai non sai non puoi fare niente non puoi fare d'accordo non puoi fare niente in rete non ci navighi ok prima immagine seconda immagine l'equilibrio e lo squilibrio adesso qui potremmo farci le 4 della mattina solo che siccome c'è alcun altro scritto da leggere cercherò di moderare un po' allora figlioli miei cari il concetto di equilibrio e il concetto speculare negativo di squilibrio sono capisaldi fondamentalissimi della vita nella divina volontà Dio è sommo equilibrio sommo e lo si vede dappertutto cioè io vi invito cioè ragazzi quando si fanno tante cose per esempio i giri nel Fiat Creante cioè il Fiat Creante cioè allora facciamo un pochino di esempi per tutti quanti gli equilibri guardate no dentro il nostro corpo frequenza cardiaca c'è un equilibrio c'è un suo livello ordinario tu al riposo devi avere tra i 60 e i 70 battiti al minuto punto questo vuol dire che stai bene se esci da questo equilibrio se esci da questo equilibrio non stai bene pressione sanguigna 80-120 se esci da questo equilibrio qualcosa non funziona temperatura corporea 37 gradi centigradi centigradi né una virgola di più né una virgola di meno se esci solo di un grado 38 38 cioè si è avuto la febbre ma è un grado su 37 pia della febbre 38 e poi vedi che succede con un grado è un grado un grado pensiamo anche proprio all'equilibrio fisico no io adesso torno da un tempo di riposo in cui mi hanno coinvolto a fare un un gioco insomma un'attività sportiva per me completamente inusuale che richiedeva la conservazione dell'equilibrio allora io mi sono messo a fare tutti quanti i pensieri capito cioè d'accordo perché noi abbiamo certificato tutte le cose l'equilibrio cioè e se poco poco ti sbagli nella virgola che perdi l'equilibrio te rompi la testa ti va a cascare per terra cioè è una questione proprio cioè la fondamentale importanza di questo no ma vogliamo andare a vedere il macrocosmio ho sempre raccontato chi sente le mie catechesi dopo a un certo punto si si completa il repertorio no cioè il giro che la terra fa intorno al sole che ci mette 365 giorni 6 ore 21 minuti e non mi ricordo quanti secondi e il caro professor Zichichi dimostrò che se sgarrasse di un secondo un secondo questo equilibrio perfetto del modo di rivoluzione della terra intorno al sole per mezzo del quale succedono tanti benefici per noi un secondo in più o un secondo in meno tempo qualche anno la terra esce dall'orbita parte come un razzo ma 2 5 secondi si è completamente polverizzato ci siamo manca accorti proprio chi vuole chi ama la morte che manco te ne accorgi devi pregare su Dio che si sfascia questo equilibrio allora come sono le personalità umane io vi invito tutti quanti a cominciare da uno sguardo volto verso noi stessi cioè questo altro che compito a casa se solo facessimo bene sto compito a casa osserva non per giudicare capito non per giudicare le singole persone osserva ogni volta che l'equilibrio viene leso in qualunque cosa in qualunque cosa prova a renderti cosciente del fastidio che si prova fastidio quando una cosa è troppo o quando una cosa è troppo poco anche nel bene capite nel bene il troppo zelo leggete le ore della della passione quando Gesù parla dei peccati riparati quello come si vede il troppo zelo troppo 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 allora io vi dico la mia esperienza sacerdotale lo dico con tanta sofferenza lo dico con tanta sofferenza e con il cuore in mano probabilmente dipende dal contesto molto dipende dal contesto storico culturale in cui siamo immersi d'accordo che è un contesto sciagurato ma trovare oggi una persona equilibrata è difficile e quando una persona non è equilibrata anche le cose sante anche i sacramenti anche la preghiera assunte dentro una personalità squilibrata come dire ne viene minata la forza santificante la forza trasformante la forza tutto quello che uno vuole perché come diceva San Tommaso sulle scelte di Aristotele quid quid recipitura un continentis cioè ogni cosa che entra dentro di noi entra dentro un contenitore e la forma di quel contenitore condiziona quello che entra d'accordo classico esempio del vino di ottima qualità messo in un recipiente sporco o annacquato peggio ancora che abbia contenuto qualche sostanza andata male o peggio ancora l'aceto il vino è ottimo ma non funziona allora l'equilibrio è un concetto fondamentale e su questo dobbiamo abituare la nostra coscienza perché qui non esistono cioè voi capite che è impossibile fare un elenco di esempi di possibili squilibri ed equilibri è possibile d'accordo possibile d'accordo faccio qualche esempio concreto no io mi rendo da prete facciamo esempi che uno solo ne faccio un esempio educativo che riguarda il rapporto prete gregge o genitori figli è difficile trovare l'equilibrio perché perché si può accedere nella manica larga o si può accedere nella severità se accedi nella manica larga le persone si rovinano perché si corrompono se accedi nella severità le persone si ribellano oppure attenzione per un certo periodo di tempo stanno a sentire per timore reverenziale o per sudditanza psicologica o un figlio perché purtroppo non ci può fare niente se è tra casa il genitore ma appena possibile ha succeduto lo finimondo è difficilissimo trovare un equilibrio ma ripeto l'equilibrio è un caposaldo della vita nella divina volontà deve essere oggetto della nostra preghiera vi prego signore fai che io possa essere una personalità anzitutto equilibrata guardate che se facciamo attenzione io vi dico la vita nella divina volontà è uno a mio avviso degli strumenti più formidabili per far comprendere all'uomo l'importanza e il valore della propria coscienza ogni tanto le persone quelle poche che me lo fanno fare d'accordo quelle poche che me lo fanno fare perché non te lo fanno fare cioè neanche in questo cioè io non do ricette gli dico aspetta c'è questo problema pensaci tu fermati che ti dice ascoltandolo bene il tuo cuore nel 90% dei casi se la persona non è psicopatica ci arriva da sola solo che quando rimaniamo da soli con noi stessi noi questo passaggio non lo facciamo non ci mettiamo in ascolto e facciamo un sacco di stupidaggini e siccome poi non soltanto non ci mettiamo in ascolto prima non facciamo l'esame di coscienza dopo stupidaggini si moltiplicano si moltiplicano si moltiplicano si moltiplicano così non sempre si tratta di cose chissà quanto gravi capito allora questo è un punto fondamentalissimo per cui l'equilibrio tu lo devi trovare dentro te stesso chiaramente all'interno di una coscienza cristianamente formata ma poi devi stare cioè per esempio a un figlio gli devi insegnare a pregare certamente lo puoi bastare tutto il giorno a pregare no no eh ma se pregasse tutto il giorno diventerebbe santo forse da grande diventa prete forse da grande diventa suore forse ma se non funziona questa cosa qua sai che succede che dopo un po' di tempo quello domanda a quel paese e appena avrà la possibilità di farla di alzamento non dici più manco il padre nostro capite io vi posso dire esperienza personale di sacerdote e qui posso no ce l'ho avuta nella prima parrocchia che sono stato parroco lavorando con i giovani con i giovani è un problema oggi d'accordo è un problema è un problema perché tu non puoi fare no io per esempio non posso fare un gruppo parrocchiale che è come dire il circolo ricreativo d'accordo dove si l'unica cosa si gioca si mangia la pizza e basta anche perché ragazzi diciamoci la verità oggi come oggi ma che ci viene in parrocchia ci stanno i pub in giro ci stanno i circoli ci stanno le attrazioni ci stanno i night ma capite una parrocchia non può mica competere a livello ludico con quello che ti offre la società non è più come te hai impedito un bosco che si gli dai il campetto da pallone al ragazzino e va la luna capite che è capace che uno oggi apre un oratorio e non ci va nessuno perché c'hanno altro a cui pensare questo è il contesto però non puoi neanche fare un gruppo giovani dove che fai fai solo formazione fai solo preghiera e così ci vengono subito tutti allora che cosa devi fare devi fare un cocktail devi fare un cocktail devi fare un cocktail quindi anche giocando ti metti a giocare con il ragazzo è una fatica enorme capito perché sarebbe molto più facile vogliamo farci il collegativo bene me trovo 4-5 bravi animatori fine del discorso vogliamo far dure e pure io figuriamoci se te cominci a ambriagate te predi che te faccio provare 40 rosari tanto travegli e catechesi cioè che ci metto io è più difficile andare a aprire un orizzonte capite un figlio cosa vogliamo fare oggi con un figlio c'è un figlio presto o tardi su facebook ci andrà non si può impedire una cosa di questo genere capito almeno che non lo metti dentro una campana di vetro perché se non ci va perché ce lo mandi tu glielo faranno vedere gli amici ma molto prima di quanto pensi e allora che vogliamo fare che facciamo lo lasciamo su facebook a 12 anni come dire libero e indipendente cioè un ragazzino gli chiudiamo facebook niente niente profilo niente passo non si può non si può allora tu lo devi prendere per mano e lo devi seguire devi controllare ma devi controllarlo senza dargli l'impressione che gli stai col fiato sul collo quindi devi accompagnarlo in questa realtà questa è anche tutta quanta la grande fatica quando il papa parla delle sfide è che ci troviamo ad affrontare oggi io un tempo non ero molto più come dire ero molto più perentore ero molto più drastico su tante situazioni poi però le esperienze della vita ti insegnano qualcosa io dico sempre che l'istoria è magistra la vita se c'è una cosa a mio avviso imperdonabile imperdonabile in un uomo è che non faccia tesoro delle esperienze vissute se una cosa non funziona tu te lo devi dire non ha funzionato questa cosa non va bene pensavo di fare bene ma ho fatto male pensavo di risolvere i problemi ho creato centomila danni di più lo devi dirtelo devi dire senza paura senza prendere una rivoltella che poi ti spari se che ne so c'hai quattro figli col primo figlio con un certo stile educativo come dire ha prodotto dei frutti negativi ma due genitori devono mettersi questa cosa non ha funzionato dobbiamo cambiare registro se no per forza per forza allora l'equilibrio ragazzi l'equilibrio l'ultima cosa la distanza distanza o vicinanza distanza o vicinanza cioè stare a distanza è un problema perché se noi stiamo a distanza da Dio ciò che di Dio è è Gesù specifica santità bellezza nobiltà luce scienza non ci riguarda più santo te lo sogni che c'è ma guardate che il santo è la persona più 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 gradevole che esiste al mondo il santo vero il santo vero non i santi taroccati le macchiette della della santità quelli che si atteggiano diciamo così da santo e poi c'è da lontano un miglio che hanno una prosopopea un tasso di superbi ma dove sta la santità capito cioè non è che uno vuole giudicare la persona che magari si rende conto ma i riscontri oggettivi cioè il santo la madonna tante volte l'ho detto l'ho predicato cioè la madonna voleva scomparire d'accordo alla vita della vita è tutta interiore ma è inevitabile che si vede all'esterno capito se c'è perché alcune virtù sono esterne d'accordo e si vedono si vedono punto allora quando stiamo lontani da Dio non siamo santi e siamo brutti brutti ma non brutti da un punto di vista estetico una persona che è brutta d'accordo è brutta perché è mal cioè capito non è non è affabile non è gradevole è antipa è testona c'è tutta quanta una canca congeri di brutti difetti che la rendono brutta può essere pure una stata può essere pure un attore da Hollywood oppure un'attrice perfettamente cioè un conto all'esterno un conto è il complesso della della persona una persona diventa bella quando sta vicino a Dio a me giugora la madonna io uso sempre per rispetto della chiesa il condizionale avrebbe detto e io ci credo una volta gli chiesero perché tu sei così bella perché sono bella sono bella perché amo amate sarete tutti belli come me cosa vuol dire perché amo sono uguale a Dio uguale capite in che senso no Dio è amore d'accordo lei è la piena di grazie quindi è bella punto la nobiltà la nobiltà in senso in senso buono no cioè non dobbiamo pensare ai nobili come quelli che stavano a fare una vita classista che dall'alto del loro rango blasone guardavano i plebei i bifolchi d'accordo i villici d'accordo con disprezzo e con alte rigie dice ma questi non sono buoni manco a a sta tavola invece noi siamo nobili la nobiltà in senso in senso bello no la nobiltà nel senso di quella bella ma bella un po' come bisognerebbe aver visto Gesù o la Madonna quella sana e quella santa signorilità e io ho avuto modo di 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 conoscere qualche qualche persona che veramente proprio un signore cioè ma un signore in senso buono in senso bello capite non in senso cioè attira cioè chi conosce un signore io vorrei essere come quello subito lo dice d'accordo e noi andiamo dietro al signore d'accordo Gesù è il signore la Madonna in latino significa mea domina cioè mia signora ave signora degli angeli la chiamiamo no capite che signore signora c'è anche proprio il riferimento allo stile d'accordo ma dove sta oggi lo stile signorile anche dentro la chiesa lasciamo perdere televisioni maggioranze opposizioni che stanno continuamente a parolacce insulti da tutte le parti quindi destra e sinistra oppure mi dicono che non c'è più destra e sinistra tutti una persona che dice una volgarità in pubblico non è un signore è un cafone chiunque sia d'accordo è un grezzo è una persona scurrile volgare è brutto è brutto non c'è bisogno cioè io apprezzerei moltissimo una persona anche per esempio nel campo politico che fosse sempre pagata nel parlare rispettosa degli avversari che non insulta nessuno non grida d'accordo non è che non grida non è che è una persona dimessa o mezzo conditto no è una persona che dice le cose tranquille chiare limpide ma sempre avendo un grandissimo rispetto per l'avversario per chi non la pensa come lui dove sta la signorilità ma si vedono anche certi stili ecclesiali assolutamente intollerabili d'accordo intollerabili ma guarda neanche se ci fosse da risolvere il caso di stato più grande che esiste nell'universo potrebbero essere accettati o semplicemente tollerati certi stili inammissibili io cioè ho conosciuto un Gesù Cristo e una Madonna a mia immagine e somiglianza ogni tanto speriamo che no perché non so anche un micro padre eterno potrebbe succedere pure a me di andare a fare l'idolatria di Dio perché c'è pure l'idolatria di Dio capito cioè farsi un Dio a propria immagine e somiglianza come Feuerbach accusava i cristiani di fare però cioè di Gesù si dice non griderà non alzerà la voce non insulterà Isaia questo qui imparate da me che sono mite d'umile di cuore quando mai Gesù ha avuto stili o quando una volta al termine della vita pubblica però non si può l'eccezione d'accordo ha cacciato i mercanti dal Tempio e ha fatto le invettive con i farisei sono gli unici due casi in cui Gesù ha avuto dei comportamenti ma l'ha avuti perché sapeva divinamente che era il caso di doverli avere d'accordo ma sono comunque l'eccezione divina poi tra l'altro perché qua Gesù gli hanno chiesto ma tu come ti permetti con quale autorità fai queste cose perché dobbiamo adeggerlo tutto il contesto che cosa gli risponde Gesù distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere che cosa gli sta dicendo io faccio questa cosa perché io sono Dio ok quindi io le sferse le posso prendere in mano se voglio non le prendo perché non voglio per amore ma se le voglio prende le prende come tu sei Dio tu in personale io Don Leonardo Maria Pompei io sono Dio no e quindi le sferse non le prendo non le prendo capite ha fatto l'invettiva contro i parisei sì le ha fatte per lo stesso motivo e dopo che per anni aveva cercato di manifestarsi a loro con rispetto e con tutte le cose e lo ha fatto come ultimo atto per amore della verità ma come ultimo atto ma è sempre un atto che ha fatto come Dio d'accordo fatto quell'atto è ritornato nella condizione di umile servo che aveva scelto ed è morto in croce anche per i farisei quindi come stiamo noi cioè la nostra vita è distante da uno stile divino la distanza ecco perché ho voluto approfondire no siamo distanti dalla santità siamo distanti dalla bellezza siamo distanti da uno stile nobile signorile sì o no queste cose ce le dobbiamo chiedere allora leggiamo di corsa il diciannovesimo volume se no non facciamo il tempo anche qui prendiamo da un certo punto e comincio la lettura tale è l'anima che si rassegna e si sottopone alla mia volontà allora vi dico subito così facciamo una premessa così ci disponiamo questo scritto è polarizzato a mostrare la differenza che c'è tra l'essere sottomessi alla divina volontà e vivere nella divina volontà e Gesù spiega che prima del peccato originale Adamo viveva nella divina volontà dopo lui si è pentito subito Adamo di quello che ha fatto subito immediatamente solo che non ha potuto recuperare quello che aveva perduto quindi il resto della vita Adamo ha fatto un peccato uno solo basta poi il resto della vita ha fatto penitenza per tutta la vita è avuto una vita santa questo ha sempre creduto alla tradizione della chiesa però non funzionava più come prima perché dopo il peccato ha vissuto sottomesso alla divina volontà dopo che l'aveva trasgredita e l'aveva persa come dono ma non era più la stessa cosa e quindi Gesù spiega anche la differenza che sussiste tra l'arrivare a sottomettersi alla divina volontà e a viverci nella detto questo procedo con la lettura tale è l'anima che si rasegna e si sottopone alla mia volontà vive degli effetti che ci sono in essa ma non possedendo la luce non possiede la sorgente degli effetti che nel sole dell'eterno potere ci sono perciò si vedono quasi come terra attenzione ecco la spiegazione che fa comprendere ora ricche di virtù ora povere e si mutano ad ogni circostanza molto più che se non sono sempre rassegnate e sottoposte alla mia volontà sono come terra che non volesse far toccare dalla luce che non si volesse far toccare dalla luce del sole perché se riceve gli effetti è perché si fa toccare dalla sua luce altrimenti resterebbe squallida senza produrre un filo d'erba attenzione tale restò Adamo dopo il peccato lui perdette l'unità della luce e quindi la sorgente dei beni ed effetti che il sole della mia volontà contiene non sentiva più in se stesso la venezia del sole divino non scorgeva più in sé quell'unità della luce che il suo creatore aveva fissato nel fondo dell'anima sua che comunicandogli la sua somiglianza faceva di lui una sua copia fedele io leggendo queste cose faccio una piccola parentesi dico secondo me se un giorno io così come io se lo dica chiunque ascolti e ha questo sogno santo di entrare in questo regno secondo me se un giorno io entrerò in questo regno io me ne accorgerò se queste cose qui c'è capito perché c'è un sta un abisso tra il prendere un effetto di una causa e stare dentro la causa c'è un abisso tra l'essere unito alla sorgente dei beni e godere esattuariamente e sporadicamente qualcuno dei beni che da quella sorgente vengono proseguo prima di peccare possedendo ancora la sorgente dell'unità della luce col suo creatore ogni suo piccolo atto era raggio di luce che invadendo la creazione tutta andava a fissarsi nel centro del suo creatore portandogli l'amore e il contraccambio di tutto ciò che era stato fatto per tutta la creazione riapro parentesi facciamo un commento così perché quando mi viene in mente una cosa che ritengo importante è meglio dirla subito allora noi sappiamo qui non so se chi sta seguendo questo ciclo di catechesi ha già seguito quelle che ho fatto l'ultimo ciclo di catechesi fatto su spazio giovane 52-53 catechesi sul dono della divina volontà ma noi sappiamo che anche il battito delle ciglia fatto nella divina volontà produce effetti meravigliosi effetti divini attira lo sguardo del creatore dice ma come un battito delle ciglia sì un battito delle ciglia lo spiega qui Gesù se tu stai unito a questa sorgente di unità capito e questa sorgente di unità è attiva in te il battito delle ciglia non è un atto umano è un atto divino anche se è un atto indifferente e completamente involontario che invadendo la creazione tutta andava a fissarsi nel centro del suo creatore portandogli l'amore il contraccambio e tutto ciò che era stato fatto per lui nella creazione tutto dipende dalla sorgente se questa sorgente non c'è è chiaro che il battito delle ciglia è un atto umano come si qualifica atto umano indifferente tra l'altro completamente involontario non c'è volontario il battito di un ciglio il battito cardiaco il battito del cuore lo stesso è un atto non è neanche un atto umano d'accordo perché il cuore batte proprio da solo quindi non si può neanche qualificare moralmente parlando come un atto umano forse sarebbe meglio dire è un atto dell'essere umano d'accordo che è un'altra cosa eppure in un'anima fusa un battito del cuore immacolato di Maria andiamo a chiedere alla santissima trinità quali effetti produce un tun un movimento di sistole del cuore immacolato di Maria andiamo a chiedere alla santissima trinità che effetti produce proseguo la lettura era lui che armonizzava tutto ad amo e formava la nota d'accordo tra il cielo e la terra bellissimo questo qui e tra l'altro era in grado abbiamo visto la volta scorsa di cogliere tutta la divina volontà parlante e operante in tutta la creazione e quindi dare a Dio a nome della creazione il ricambio perfetto di amore di lode di adorazione tutto operazione che per noi oggi è impegnativa dobbiamo farla dobbiamo esercitarci ma come si sottrasse dalla mia volontà i suoi atti come raggi non più invadevano cielo e terra ma si restrinsero quasi come piante e fiori nel piccolo circuito del suo terreno sicché perdendo l'armonia con tutta la creazione diventò una nota scordante di tutto il creato dall'essere una nota armonizzante è stato la causa dello sconquasto di tutto il creato o come scese nel basso e pianse amaramente l'unità della luce perduta che levandolo soprattutto le cose create faceva di Adamo il piccolo dio della terra questo era immaginate insomma Adamo che vede lo scatenarsi della creazione il disordine il disequilibrio entrare nella creazione bisogna leggere un pochino di documentari quello che accade nelle foreste gli animali che si attaccano tra di loro che si sbranano che si azzannano recentemente tutti avranno sentito il fatto di croca un pitone che si è mangiata viva una donna insomma gli leoni le tigre che azzannano i pori di cerbi le pori di gallette sembravano di sangue ma è che tutta quanta questa roba possiamo vedere chi ci crede ma tutta quanta questa roba è tutta figlia di quell'atto primordiale di Adamo io non lo so se Adamo trova la colpa d'origine spero che il nostro signore gli abbia in qualche modo merato gli occhi perché sentirsi responsabile di tutto questo perciò non c'è paragone che regga tra chi vive nella mia volontà e chi si sottopone ad essa sì che l'unità della luce ancora notate questo termine l'unità della luce la possedeva Adamo prima di peccare e non potete più recuperarla stando in vita fine di lui successe come una terra che gira intorno al sole che non essendo fissa mentre gira d'accordo il modo della terra su se stessa mentre gira cosa fa? si oppone al sole e forma la notte ora per renderlo fermo di nuovo la terra non si ferma la terra gira su se stessa e quindi è inevitabile che al giorno succeda la notte al giorno succeda la notte immagine dell'anima avete visti quelli che girano su se stessi che sono puntati su se stessi e campano di volontà propria la terra di ferma e sta fisso verso il sole questo vuol dire vivere nella nella divina volontà guardarlo sempre stare sempre sotto i suoi rangi Gesù spiega ora per renderlo fermo di nuovo riprendo la lettura e poter così sostenere l'unità di questa luce ci voleva un riparatore con la R maiuscola e questo doveva essere superiore ad Adamo ci voleva una forza divina per raddrizzarlo ecco la necessità della redenzione la redenzione come sappiamo però tende come compimento alla restituzione della possibilità di tornare a vivere nella divina volontà l'unità di questa luce la possedeva la mia celeste mamma attenzione e perciò più che sole può dare luce a tutti Adamo vuol perdere quest'unità della luce si capovolse e formò la notte cosa è la notte la terra che finisce il giro e dà le spalle al sole le debolezze le passioni per sé e per le generazioni invece questa vergine eccelsa col non fare mai la sua volontà stette sempre dritta e dirimpetto al sole eterno e perciò per lei fu sempre giorno e fece spuntare il giorno del sole di giustizia per tutte le generazioni io sono sempre ci sono dei passi faccio una confessione delle ore della passione che per me sono proprio fondamentali alcuni sono commoventi ovviamente non dico in giro quali cioè che ogni volta che ci arrivo mi viene un groppo alla gola e andare avanti diventa molto complicato però l'ultima ora della passione quando si dice la mia notte è finita la notte non tornerà più è finita cioè come la risurrezione è l'inizio di una vita che non tramonterà mai più perché la morte non ci sarà mai più è possibile che inizi una vita in cui la notte non viene più quindi la volontà mia allo stato puro non la faccio più questa è promessa che Gesù ha fatto è possibile è una vita diversa è una vita più bella è una vita bellissima ma questo dobbiamo sempre tenereci dentro la capoccia dentro la testa dentro la testa ogni volta che io faccio anche solo un atto di volontà totalmente mia poi capite gli atti più gravi oltre che quelli imperfetti attenzione che la vita è una vita di perfezione assoluta quindi le imperfezioni non vanno diciamo beh chi se ne importa tanto non è peccato no 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 Dio è l'essere perfettissimo creatore signore del cielo e della terra d'accordo e quindi la santità a cui deve tendere un figlio della vita è la perfezione che raggiunge il livello del perfettissimo non semplicemente del perfetto superlativo per lei fu sempre giorno e fece spuntare il giorno del sole di giustizia per tutte le generazioni figlia mia Adamo nello stato di innocenza e la mia mamma celeste possedevano ancora l'unità della luce della mia volontà guardate anche il fatto della luce no cosa vi ho detto prima cosa ho detto prima l'ho detto anche a me non l'ho detto soltanto a voi nella divina volontà tu imparerai ad ascoltare la voce dell'autocoscienza e cos'è la coscienza? è la luce di Dio che è in te questa luce diviene sempre più chiara mano a mano che tu cresci in questa vita le tenebre sono proprio simbolo di un intelletto a circa di che non capisce niente di chi non si raccapezza di chi non sa dove andare di chi non sa che fare capite? di chi non sa un tubo ecco la luce immagine fondamentalissima no? Dio è luce e in lui non ci sono tenebre dice San Giovanni la luce l'unità della luce della mia volontà quindi essere una cosa sola con la luce di Dio stesso quindi la Madonna cercava in ogni cosa la volontà di Dio ma la Madonna la vedeva la volontà di Dio la faceva noi potete dire volte quante volte ci capita che magari vorremmo fare quello che Dio vuole e non sappiamo dove si trova la volontà di Dio lo sappiamo e cosa dinanzi a un'alternativa non sempre lo sappiamo qui anche noi se preghiamo impariamo ad ascoltare bene il cuore ci arriviamo però non è sempre un'operazione semplice non così per Adamo prima del peccato e per la Madonna e questo ovviamente non in virtù proprio prosegue la lettura ma per virtù comunicata da Dio loro e Gesù Cristo ora Gesù passa a parlare di sé invece la mia umanità questa luce della divina volontà la possedeva per virtù propria perché in essa non c'era solo l'unità della luce del supremo volere ma c'era il verbo eterno ci ho fatto la carica che si chiedi mattina insomma su questo qui no Gesù non è una persona umana Gesù è il verbo di Dio fatto carne vero uomo ma non persona umana come voleva Nestorio e siccome io sono inseparabile dal padre e dallo spirito santo successe la vera e perfetta bilocazione Gesù qui dice ripete le cose che noi studenti di teologia dogmatica sappiamo a memoria sappiamo che mentre rimasi in cielo perché il verbo si è incarnato ma non ha lasciato il cielo noi non dobbiamo pensare al verbo incarnato che il verbo lascia gli altri due in paradiso e se ne scende nel grembo di Maria poi finito ritorna e ritornano in tre senza lasciare il cielo scende nel seno della mamma attenzione ma non è che gli altri due rimangono a guardare perché padre figlia e spirito santo sono un solo Dio cosa spiega Gesù mentre rimasi in cielo scesi nel seno della mia mamma ed essendo il padre e lo spirito santo inseparabili da me anche loro mi scesero insieme anche se si è incarnato solo il verbo ma nessuna operazione della trinità qui vi parlo ancora da teologo dogmatico è come dire solitaria le cose le fanno sempre tutti e tre insieme loro non c'esiste atto che sia fatto da uno senza gli altri due anche se uno secondo il nostro modo di parlare può prendere diciamo così l'iniziativa in questo caso l'incarnazione del verbo più che l'iniziativa può come dire concretamente attivarsi per compierlo anche loro vi scesero insieme e nel medesimo tempo restarono nell'altezza dei cieli qui quando qualcuno comincia a dire gli scritti di Luisa sono eretici guardate questo è un passaggio qui 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 cascano tutti qui io non credo proprio che una donna con la prima elementare poteva andare a caccia io sono stata scervellana settimane mesi quando studiavo queste cose dico ma com'è sta storia il verbo scende però rimane in cielo si incarna solo il verbo però vengono anche il padre e lo spirito santo però rimangono in cielo tutti e tre io adesso non voglio fare peccati insomma da raccontare io le prime volte che dice queste cose dico ma com'è sta roba insomma ero abbastanza allenato a studiare perché da una vita ho passato a studiare insomma qui ho citato testualmente queste parole Gesù sta facendo una lezione lui è chiaro che è il primo dei professori di dogmatica ma impeccabile d'accordo qui non c'è neanche come dire la possibilità che magari lo strumento umano ha sbagliato ha fatto qualche sbavatura teologica è perfetto quello che ha detto perfettissimo allora siccome la mia umanità non solo possiedeva la pienezza della mia volontà come virtù propria ma lo stesso verbo e come conseguenza dell'inseparabilità il padre e lo spirito santo superò perciò in modo più perfetto tanto la mia innocente quanto la stessa mamma mia perché in loro era grazia in mera natura qui altra lezione di tutti quelli che sono preoccupati che la madonna toglie il primato a Gesù Cristo ma che cosa ha detto qui ma che ti toglie il primato a Gesù Cristo la madonna è tutta grazia tutto dono di Dio Gesù ha vissuto quelle cose per essenza perché era il verbo fatto carne capito c'è un abisso infinito Adamo e Maria continua dovevano attingere da Dio la luce certo poi la madonna l'attinta talmente tanto d'accordo che qualche santa ha scritto se uno non savesse che l'attinta sembrerebbe la luce lei stessa ma l'attinta però ecco e loro dovevano attingere da Dio la luce la grazia la potenza la bellezza e in me c'era la fonte da cui sorgeva la luce la bellezza la grazia eccetera si chiara tanta la differenza in me che era natura e nella stessa mamma mia che era grazia che lei restava ecclissata dinanzi alla mia umanità ecco qui capite qualunque possibile detrattore degli iscritti da un punto di vista dogmatico d'accordo qualunque critico anche qui si dà troppo importanza alla madonna e si scura a Gesù Cristo legga questi questi quattro capoversi del 31 maggio del 26 eccetera e poi taccia d'accordo perché c'è niente da dire qui ecco attenzione però al senso allora vivere nella divina volontà quando una persona è sottomessa alla divina volontà e cosa succede la voglia di Sant'Alfonso a scrivere l'uniformità alla volontà di Dio cioè tu potrai farne tre su dieci quattro su dieci cinque su dieci ma ogni tanto sgarri dicano a Roma sgarri sicuro sicuro d'accordo è inevitabile perché c'è una marasma di eredità bislacche che non ti permetteranno di uniformarti sempre alla divina volontà bisogna raggiungere l'unità con la fonte tornare a questo stato perché poi tutta la tua vita senza intermittenze connessa profumi rifletta spiri il divino d'accordo quindi ripeto questo è un cammino a cui si arriva gradualmente ricordiamo sempre che prima di essere nella divina volontà occorre farla quindi Gesù non sta qui facendo un discorso dispregiativo no noi non la facciamo la divina volontà noi vogliamo viverci no 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 noi prima la facciamo e dopo ci sarà il passaggio ulteriore del vivere ripeto l'espressione tecnica che Gesù usa possedere la sorgente dell'unità della luce col creatore certamente per grazia come fu per Adamo prima della colpa d'origine e come è stato per Maria ma possederlo sul serio quando questo arriva è chiaro che si capiscono tante cose degli iscritti si è confermati in grazia quindi non è più possibile perché non è più possibile uscire grossolanamente dalla volontà di Dio col peccato mortale assolutamente e non è che non è possibile perché si perde la libertà ma perché la libertà è stata talmente tanto ben investita dalla creatura per essere polarizzata verso questo obiettivo che a un certo punto uno sogno lo prende e dice a bene questo ecco qua quindi viene sublimata non annullata e viene tra l'altro posta nelle condizioni del suo massimo esercizio perché la libertà il Signore ce la data perché la potessimo utilizzare e lo scegliere continuamente non solo i beni ma i migliori dei beni ma gli ottimi dei beni che sono quelli che sono perfettamente conformi inerenti a quello che Dio vuole bene ci fermiamo per oggi do la mia benedizione a tutti e a chi lo desidera appuntamento su questo profilo la prossima settimana alla stessa ora nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen vi benedico per aiutarvi vi benedico per difendervi vi benedico per liberarvi vi do ogni male vi benedico per perdonarvi vi benedico per farvi santo vi benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria